Dicono che quando ti addormenti in braccia alle persone, quelle persone fanno parte della tua famiglia. Io non mi ero mai sentito così bene. Mai. Quando mi sono svegliato la mattina ero da solo, in macchina, sotto casa mia. E lei mi aveva lasciato un biglietto. Aveva scritto, svegliare chi dorme è un sacrilegio. Per la prima volta in vita mia qualcuno si stava preoccupando per me. Quando nel pomeriggio venne a ripendersi la macchina, facciamo di nuovo l'amore.